Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove vi parlo di Inter Cagliari, dove vi parlo dell'Inter capolista, dell'Inter che domina il gioco, dell'Inter che si domostra di essere una grande squadra, dell'Inter che dimostra il lavoro di Simone Inzaki, il lavoro di Simone Inzaki che dimostra di essere un grande allenatore Simone Inzaki. Per quello che sta facendo vedere all'Inter Inzaki non poteva mai farlo vedere alla Lazio, quindi Inzaki è stato molto sottovalutato negli anni della Lazio perché la Lazio comunque non ha la squadra che ha adesso l'Inter, la Lazio è la squadra a di sotto della squadra che ha l'Inter e quindi Inzaki proprio meritava una squadra come l'Inter per far vedere tutte le sue qualità e per non farsi sottovalutare. Perché a me Inzaki è sempre piaciuto Inzaki, Inzaki è sempre piaciuto. Io Inzaki lo preferivo come allenatore e non ho mai detto che lo preferivo a Spalletti però non so. sono due grandi allenatori che fanno giocare bene le squadre, moduli diversi, gioco diverso e comunque Inter capolista, più uno dal Milan, più tre, più tre dall'Atalanta, più quattro da Napoli e più dieci dalla Fiorentina, più dieci dalla Fiorentina. Quindi un Inter, un Inter che fa paura, un Inter che gioca bene al calcio, un Inter che si può definire già campione d'Italia, non vi preoccupate ragazzi, segnatevelo cosa vi dico, Inter campione d'Italia già da adesso. Il discorso scudetto per me è chiuso, anche se la matematica non dice ancora questo, ma lo dico io ragazzi, l'Inter per me si prende lo scudetto, l'Inter per me deve aspettare solo un paio di mesi, ma solo cosa di niente, deve aspettare solo per alzare di nuovo quella colpa al cielo, perché è campione d'Italia di nuovo ragazzi, sono troppo sicuro. L'Inter è campione d'Italia, l'Inter non calerà mai in questo campionato, l'Inter non calerà mai, ve lo dico io, e secondo me farà un campionato spettacolare, può anche fare 90 punti per come sta, ancora presto giudicare, però per come sta vivendo questo campionato, per come sfrutta le occasioni, sfrutta le occasioni da grande squadra, è inutile. Quello che non dimostrato adesso è il Napoli, però comunque molto sfortunato è il Napoli, all'Inter è già troppo tutto bene, però l'Empoli comunque è più forte del Cagliari, non si possono parecolare le due squadre, l'Empoli per me è maggiormente più forte del Cagliari. Cagliari che... ma a livello di gioco, perché poi se guardiamo un po' le informazioni, posso dire anche che Cagliari è più forte del Lempoli, ma siamo lì, siamo lì, perché l'Empoli, guardate che la squadra sta salendo di livello mal mano, visto questo gioco di Andrea Zoli, queste vittorie su campi pesanti, mi ricordo la vittoria in rimonta contro la Fiorentina, mi ricordo la vittoria contro l'Ivano all'inizio del campionato, ora questo contro il Napoli, non ricordo più vittorie, non era affatto più nulla, o non ricordo io, o non ricordo io. Comunque su campi pesanti, al Franchi non era facile, a Torino non è facile, a Napoli non è facile vincere, però lei vince, l'Empoli vince. Parliamo un po' della partita, inizia la partita, l'Inter subito arrancante, subito attacca il Cagliari, arranca il Cagliari come un cane malvagio, e l'Inter è una squadra malvagia, l'Inter ha dimostrato di essere cattiva, l'Inter ha dimostrato di avere la cattiveria giusta per portarsi a casa queste vittorie, queste vittorie si portano a casa con la cattiveria giusta, l'Inter l'ha avuta, l'Inter fa poker, fa poker a San Siro. Quindi inizia la partita, Cagliari che si difende in qualche modo, riesce ad evitare il gol dell'Inter nei primi 20 minuti, ma poi il gol arriva con... ora non ricordo il primo gol chi l'ha fatto, ora vedo, ora vedo, aspettate, mi sembra l'Autoaro Martinez, mi sembra l'Autoaro Martinez, sì, l'Autoaro Martinez a 29esimo, a 29esimo minuti, quindi per 29 minuti il Cagliari è riuscito a difendere, poi il Cagliari non sa difendere, parliamoci già, il Cagliari è riuscito a difendere lo 0-0, però poi assiste di Ciananoglu, gol di Lautaro Martinez, veramente bello di testa, veramente bello di testa, e Ciananoglu proprio in uno stato di fumo, ma pazzesco, 1-0 Inter, poi appunto nella fine del primo tempo, l'Inter è calcio di rigore da parte dell'Inter, Lautaro spreca l'occasione, battendolo male, però Cagliari comunque ci mette la gamba, perché con le due ginocce ha parato, comunque Craglio bella prestazione, Craglio bella prestazione, ha fatto 11 parate in questa partita, ha dato clamoroso, di cui delle parate straordinarie, salva risultati, ma che vuoi salvare da questo Cagliari? Nessun salva risultato ma dei miracoli, attenzione Magina, attenzione a Craglio, attenzione a Craglio, al posto di Meret ti consiglio di convocarlo, al posto di Meret, perché Meret a me non piace, Craglio di più, piace di più a me Craglio, Craglio piace di più, a me piace questi portieri qui, spericolati, come Davido Spina, a Craglio mi piace, Craglio è uno di quelli, è uno di quei portieri spericolati, bravo a Craglio, che parla anche rigolo, 1-0 Inter nel primo tempo, inizia al secondo tempo, sempre una super Inter, Cagliari che prova a fare qualcosa, ma nulla di che, Mazzari che sicuramente viene esonerato, sicuramente viene esonerato, sicuramente il Presidente del Cagliari già sta con la macchina pronto, oppure se lo porta proprio in braccio a casa sua, perché non ha reso le aspettative Mazzari, perché mai aspettavo un Cagliari che comunque superasse la zona bassa della classifica con Mazzari, io, se ero il Presidente del Cagliari, io avrei dato più fiducia al Semplice, è stato dato meno fiducia al Semplice, io avrei dato più fiducia al Semplice, più fiducia al Semplice, invece il Cagliari non ha dato fiducia al Semplice, anche un po' più di fiducia al Semplice, più tempo, più tempo, dopo come il Verona con il Di Francesco, il Verona con il Di Francesco, avrei dato più fiducia, però comunque il Tudo sta facendo una stagione straordinaria con il Verona, ma ha messo anche in difficoltà l'Atalanta, però l'Atalanta è una squadra forte, quindi se non perdi contro l'Atalanta, sei una grande squadra anche tu, il Verona. Al cinquantesimo trova il golasso, direi, un assist grandissimo, un assist grandioso, prezioso di Barretto, e poi Sanchez, mamma mia, Sanchez, grandissimo finalizzatore, è lì, grandissimo finalizzatore, l'età l'ha fatto un po' perdere nella finalizzazione, invece questa partita ha dimostrato che comunque la finalizzazione ce l'ha ancora, prendendo anche la traversa quasi nel finale, nel fine partita, bravo Sanchez, assist grandioso di Barella. Al sessantasedesimo, dopo 16 minuti, Ciananoglu fa un gol, un gol delle sue, perché questi gol Ciananoglu ce l'ha, questi gol Ciananoglu ce l'ha, parliamoci chiaro ragazzi, Ciananoglu è un bel giocatore, non lasciamoci far prendere dalle parole dei milanisti, ora perché hanno perso un gran giocatore, perciò stanno dicendo, Ciananoglu è un giocatore di merda, no, non è così, Ciananoglu è un grandissimo giocatore, Ciananoglu ha un tiro magico, assist di Sanchez, quindi Sanchez bravo, poi il palo di Sanchez, quindi palo, gol e assist Sanchez, bravo, 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 bravo. Merita qualche possibilità in più Sanchez, merita qualche possibilità in più, perché però con Ngeco e Lautaro davanti e anche un Correa tu non hai possibilità, visto che Correa sei infortunato, visto che Correa sei infortunato, tu hai più possibilità di giocare e farti vedere, bravo Sanchez, mi piaci. Poi fa un gran gol Lautaro Martinez con un altro grandissimo assist di Barella, a Barella questa partita è mancato solo il gol, è mancato solo il gol, perché poi fa, 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 fa due assist, fa due assist e fa una partita straordinaria, bravo, 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 partita straordinaria di tutti, di tutti, invece dal lato del Cagliari solo di Cragno, solo Cragno si salva, solo Cragno, solo Cragno si salva. E niente, Mazzari sicuramente verrà esonerato, chi lo sa, chi lo sa chi lo sostituisce, c'è Pirlofermo, c'è Gattusofermo, però penso che non si affiderà a questi allenatori, il Cagliari. E niente ragazzi, il video può finire qui, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like, vi ringrazio a chi mi ha fatto compagnia in live, e niente, ciao ragazzi.